se volete credermi bene ora dirò come è fatta ottavia città ragnatela c'è un precipizio in mezzo a due montagne escoscese la città è sul vuoto legata alle due creste con funi e catene e passerelle si cammina sulle traversine di legno attenti a non mettere il piede negli intervalli o ci si aggrappa alle maglie di canapa sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri qualche nuvola scorre si intravede più in basso il fondo del burrone questa è la base della città una rete che serve da passaggio e da sostegno tutto il resto invece di elevarsi sopra sta appeso sotto scale di corda amache case fatte a sacco attaccapanni terrazzi come navicelle otre d'acqua vecchi del gas girarrosti cesti appesi a spaghi montacarichi docce trapezzi e anelli per i giochi teleferiche lampadari vasi compiante dal fogliame pendulo sospesa sull'abisso la vita degli abitanti d'ottavia è meno incerta che in altre città sanno che più di tanto la rete non regge e quindi Grazie a tutti